Eccoci qua. Allora, oggi affrontiamo un altro esempio di un tema d'esame, quello del 20 luglio, che ci fa lavorare un pochino, come solito, i grafi e ho scelto un tema d'esame in cui il punto 2 fosse una simulazione, così ci addestriamo anche sulla parte di simulazioni. Lo iniziamo oggi, se non dovessimo riuscire a finirlo lo completeremo mercoledì prossimo, mentre invece i due lunedì che ci rimangono, come abbiamo detto, saranno dedicati a risolvere le simulazioni di laboratorio, quella di ieri-oggi e quella del lunedì e martedì prossimi. Allora, di che cosa ci parla questo, che era il tema d'esame del secondo appello dell'anno scorso, usava il database cosiddetto Yelp, che contiene informazioni su valutazioni da parte di utenti di vari tipi di esercizi commerciali, principalmente ristoranti e cose di questo genere. Quindi noi abbiamo la tabella Businesses, che contiene principalmente ristoranti, la tabella Users, che contiene gli utenti registrati al sito e la tabella Reviews, che ovviamente mette in relazione le due, in cui un singolo utente emette una sua revisione per un determinato business. E quindi abbiamo qui i dati della revisione, mentre sopra abbiamo i dati dei business stessi e sotto quelli degli utenti. Quindi il database è relativamente semplice come struttura, un pochino voluminoso, quindi bisognerà fare un po' attenzione perché alcune di queste tabelle sono effettivamente abbastanza voluminose. Cosa ci chiede? Partiamo dal punto 1, risolviamolo per gradi. Ci chiede di inserire un numero di recensioni, quindi Reviews, e selezionare un anno compreso tra 2005 e 2013. Quindi per partire l'utente deve selezionare questi due campi, numero di recensioni e un anno. E poi c'è la possibilità di creare il bottone, di premere il bottone Crea grafo, in cui creare un grafo semplice, non orientato e pesato, in cui i nodi siano tutti gli utenti che abbiano pubblicato almeno n recensioni indipendentemente dall'anno inserito, quindi questo primo punto, il punto B, non considera la scelta dell'anno. Tutti gli utenti che abbiano almeno n recensioni, quindi se metto n uguale a 0 saranno tutti gli utenti, se invece mettessi un numero diverso a 0 saranno solamente gli utenti che hanno postato un certo numero di recensioni in poi. Per l'utente nel conteggio delle recensioni si considerano recensioni effettivamente contenute nella tabella di Reviews, questa è una precisazione necessaria perché c'è anche nella tabella utenti un campo Review Count in fondo che però analizzando il database non è sempre accurato, non è sempre corretto, quindi per sapere chi ha fatto queste revisioni effettivamente vai a contare il numero di Reviews a cui sei associato. E questo è il primo passaggio. Poi ci chiede, quindi abbiamo creato questo grafo in cui i vertici sono gli utenti, questi utenti sono collegati da un arco, quindi due nodi del grafo, due vertici del grafo che corrispondono a due utenti diversi, vengono collegati da un arco se e solo se per almeno una volta essi abbiano pubblicato almeno una recensione per lo stesso locale commerciale nell'anno selezionato. Quindi la scelta dell'anno impatta solamente la creazione degli archi e non la creazione dei vertici di questo grafo. Quindi prendiamo gli utenti più attivi come recensione e poi colleghiamo tra di loro gli utenti che in un determinato anno di interesse hanno commentato lo stesso locale. Il peso dell'arco sarà sempre positivo vedo dal numero di volte che questo accade. Quindi quante volte questi due utenti hanno fatto entrambi una revisione per lo stesso locale? Ecco può succedere più volte perché ovviamente possono aver fatto entrambi recensioni per tanti locali distinti. Quindi se l'utente A e l'utente B hanno fatto una recensione per locale 1, poi hanno fatto entrambi. Hanno fatto una recensione per locale 7, entrambi, in questo caso l'arco sarà pesato due perché è successo due volte che ci fosse una revisione comune tra i due nell'anno di riferimento. Quindi un po' contorta come descrizione a parole. E questo mi dice alla fine quanto i due utenti coinvolti sono simili tra di loro, cioè quanto vadano effettivamente a recensire le stesse cose. Punto D, che è l'ultimo punto di questo primo esercizio, permette all'utente di selezionare dall'apposita tendina un utente U tra quelli presenti nel grafo. Quindi abbiamo più avanti la tendina degli utenti che ovviamente potrà essere popolata solo dopo la creazione del grafo, perché solo allora avremo considerato il valore di N per poter definire l'elenco degli utenti. Dopo che ho scelto un utente posso premere il bottone utenti simile per stampare l'utente più simile ad U, quindi quello con grado di seminarità che abbiamo appena calcolato è più alto. Quindi è un modo diverso di dire dato un utente, tra gli archi collegati a quel vertice, quello è quello che ha il peso più alto, perché l'abbiamo dato come peso esattamente il grado di seminarità calcolato in quel modo che dicevamo un attimo fa. Nel caso in cui ci sia più di un utente che abbia lo stesso grado di seminarità U, vabbè stamparli tutti. Poi c'è questa nota che dice fate attenzione a quando fate le prove perché per alcune combinazioni di anno e utente il tempo di elaborazione tende ad essere elevato e quindi magari partire con gli esempi che vi abbiamo dato qua in fondo che sono, è garantito che riescano a completare in un tempo ragionevole. Poi qui non ci sono, in questa prima parte non ci sono algoritmi ricorsivi che possono avere tempi di esecuzione esponenziale, però sono solamente le query che potrebbero essere un po' pesanti per il database, soprattutto se il computer con cui vi troverete a lavorare non è particolarmente brillante, potrebbero darvi l'impressione di essere sbagliato e in realtà è solamente lento. Ok, questo è il primo punto. Direi che il tutto si riduce nel capire il testo che effettivamente è un pochino, non dico contorto, ma pone diverse condizioni e poi costruire delle query apposite. Poi intorno alle query costruiremo il DAO, costruiremo il modello, eccetera, eccetera. Quindi io per istinto partirei dalle query che mi servono. No, cosa stai prendendo da caso? Heidi. Ok. E quindi, come dicevamo, prendiamo il nostro database Yelp delle revisioni, che avevo già precaricato, vediamo che come dati abbiamo 11.000 business circa, abbiamo 43.000 utenti che hanno un ID particolarmente simpatico, cioè non si capisce niente, e abbiamo 200.000 review, proprio per questo il tuo grafo è un pochino pesante da gestire. Allora, la prima operazione che dobbiamo fare è quella della creazione del grafo, quindi trovare i vertici, ciò che mi serve al punto B. Trovare i vertici significa trovare tutti gli utenti che abbiano almeno n recensioni. Quindi, si può fare in modi diversi questa query, una possibilità può essere quella di fare, andiamo sul diagramma delle entità relazioni, io posso fare una query di conteggio sulla tabella reviews, in cui vado a contare il numero di recensioni raggruppato per user ID. poi di questa vado a fare la soglia sul numero minimo di recensioni e avrò a questo punto una serie di user ID e per andarmi a prendere i dati degli utenti posso usare una query annidata che mi restituisce solamente agli utenti che sono saltati fuori dall'altra query. Questo è un modo, ragionando con due query annidate, una query interna che mi fa il calcolo delle review con gli utenti associati e quindi a questo punto con una clausola having vado a bloccare il numero di review minimo e poi una query più esterna che semplicemente fa un select asterisco from users where però l'utente è nel risultato della query precedente. Questo è un modo, l'altro modo è quello di fare una join chiaramente tra le due tabelle con group by eccetera, c'è chi preferisce avere join più complesse, c'è chi preferisce avere query annidate e alla fine sapete che dal punto di vista dell'algebra razionale sono equivalenti, sono modi diversi di scrivere la stessa cosa. In questo caso devo dire, a distinto mi viene da percorrere la strada della query annidata ma perché la posso fare per gradi essenzialmente. Prima vado a contarmi le review e quindi di fatto farò qualcosa del tipo select cosa, gli utenti, user id e il numero di review, count di review id from reviews, c'è la tabella, group by user id. se non sbaglio, questa cosa qua mi dovrebbe dare tutto un elenco di user id, tutti e 45.000 ma non è vero, sono 45.900 mentre abbiamo visto che la tabella users aveva 43.900 45.000, sono di più, non me l'aspettavo, ma questi dati non è detto che siano esatti, infatti dice circa. e ciascuno user id mi dà il numero di review che ha fatto. ok, diamo magari un nome a questa colonna, es numero e io voglio selezionare di questa query solamente gli id che hanno un numero superiore a una certa soglia quindi where, as we're having, numero maggiore di, che non so, 5 proviamo già magari coi numeri che ci suggeriscono gli esempi 200 è chiaro che tagliando 200 troverò pochi utenti, no? l'altro esempio è la 150 quindi mettiamo 200 e avremo solamente 45 utenti mi daranno un grafo con 45 vertici un pochino più gestibile, no? quindi questi sono gli user id i 45 user id che hanno postato almeno 200 almeno fatemi vedere se devo mettere un uguale o un maggiore uguale mi viene il dubbio adesso allora il testo mi dice almeno n recensioni quindi n deve essere compreso ok? quindi maggiore o uguale ok, 47 ne ho pescati altri due che hanno esattamente 200 review quindi questi sono gli id dei vertici del grafo chiaramente per costruire il grafo non mi basteranno solamente gli id mi serviranno tutti i dati e quindi magari mi preparo una seconda query in cui estraggo tutti i dati dagli utenti from users where non tutti gli utenti non tutti i dati di tutti gli utenti ma tutti i dati di questi 45 utenti quindi quindi where user id in in questa select qua ok query query in data dovrebbe essere una cosa di questo genere adesso non so se funziona perché la colonne mi da esatto mi da due colonne mentre me ne serve una sola quindi devo fare un passaggio in più passaggio in più in cui estraggo dal risultato di questa query solamente la colonna di userid non posso però far così perché se no non ho più la colonna numero vediamo se riesco a mettere count qua count ctrl z allora non so se è chiaro il punto su cui mi sono fermato io ho una query che dice dammi tutti gli utenti il cui userid sia nel risultato di quella query per il risultato di questa query è una tabella con due colonne infatti lui mi dice guarda che l'operando dovrebbe avere una colonna sola mentre tu mi hai dato qua dentro due colonne allora io in realtà del risultato di questa query mi interessa solamente la prima colonna questo dovrebbe essere facile se faccio un'altra select userid from questa roba qua no select userid dov'è che ho sbagliato lo sintassi devo dare un nome alla tabella secondo me ok mancava solamente il nome della tabella perché quindi la prima query mi dà gli utenti la nido dentro un'altra select che seleziona una colonna sola quando fate l'altra base di dati la chiamate la proiezione seleziono un sottinsieme di colonne senza fare nessuna operazione creo e estraggo tutta la colonna di userid dalla tabella virtuale fatta dal risultato di questa query ok la sintassi SQL mi obbliga a dare un nome a questa tabella vabbè abbiamo un nome a casa tanto non mi serve questa è la colonna la tabella che contiene gli id che mi servono quindi nella mia seconda query in cui vado a prendere i dati degli utenti se tutto va bene basta che io incolli questa query che a sua volta è annidata a due livelli ma il database il suo lavoro lo sa fare se io scrivo bene le query lui il risultato me lo dà e quindi in questo caso avrò i risultati di questi utenti c'è una leggera discrepanza se stiamo a vedere perché questa qua tira fuori 47 righe e questa invece ne tira fuori 44 questo database non è perfetto non ci sono tutti i dati presenti ci sono alcuni review con utenti con user id che non compaiono in una tabella utenti per quello ne manca qualcuno è abbastanza frequente con dati presi in giro che non siano perfetti magari li hanno tagliati li hanno tagliati con qualche errore dentro quindi questa qui con un po' di fatica è un possibile una possibile interrogazione che mi dà l'elenco dei vertici del grafico questo è un modo per quando vi svegliate al mattino e vi sentite dei maghi di SQL no? e dice vabbè dai facciamolo con la query non è l'unico modo ovviamente l'altro modo un pochino più tranquillo potrebbe essere quello di dire vabbè senti io mi faccio dargli id poi uno per uno faccio una query una select che mi va a prendere i dati di quelli di lì da solo di quell'utente solo e quindi faccio due query separate una che mi elenco degli id e poi faccio tante select sono 47 select se mi dà l'utente se ne esiste lo aggiungo e creo il nome quindi possiamo far lavorare di più il modello e meno il database questo decidetelo voi così come un altro modo se vogliamo visto che vi ho visto un po' spersi con la query andate tre volte l'altro modo di ottenere la stessa cosa è quello di fare una join forse siete più familiari select per ora mettiamo tutto from users virgola reviews ok poi dobbiamo mettere la condizione di join reviews punto user id punto come si chiama user id uguale users user id e questa è una classica join tra le due tabelle mi dà tutto raggruppo per utente e conto quindi facciamo la prima facile proviamo solamente selezionare l'user id e il review id users punto user id review punto review id quindi questi utenti hanno fatto queste review adesso devo contare quante review ha fatto ciascun utente quindi ritiritorno non le review ma il conteggio raggruppata per utente così la virgola non la vuole e qui ho ottenuto praticamente lo stesso risultato di prima prima avevo lavorato solamente sulla tabella reviews qui sto lavorando su una join adesso della join non vedo molto perché ho nascosto delle colonne per non avere tutte ma anche qui a questo punto posso filtrare ricordiamoci che per filtrare sul risultato di un'operazione aggregata tipo un count devo usare having e non where where filtra prima di aggregare having filtra dopo l'aggregazione quindi chiamiamolo anche questo numero having numero maggiore di 200 e a questo punto ottengo questi signori qui maggiore uguale così dovremmo avere gli stessi 44 ottenuti in un modo diverso a questo punto mi basterà recuperare anche tutti gli altri campi di users ci mettono users punto asterisco e mi porto dietro tutti i dati della tabella users quindi questa qua è il risultato quando poi farò diciamo che la prima colonna non mi serve più perché le prendo tutte se io ignoro l'ultima colonna quella col numero che non mi serve nel mio DAO avrò il risultato che mi serve ok ho l'elenco di tutti tutti i campi degli users che abbiano un numero maggiore o uguale di 200 fatta con questa join l'importante è che nel DAO questa colonna qui la ignori perché non fa parte dell'oggetto user lo posso fare non ho bisogno di modificare le sequelle per buttarla via semplicemente lo ignoro nel codice non la posso cancellare da qui perché se cancello questo non posso più avere having dimmi non lo so te lo dico subito proviamo perché non so se il having rispetta le espressioni oppure no vediamo se funziona si funziona quindi in questo caso la colonna non la generiamo neppure e mettiamo già nella condizione del having il conteggio anche dall'altra parte avremmo potuto fare una cosa simile non nominare la colonna dimmi allora lui dice che gli arrivano gli vengono due numeri diversi con a me vengono 44 con la soglia di 200 e dall'altra parte mi vengono sempre 44 con la soglia di 200 quindi possiamo scambiarci le query e vediamo come si faceva con le figurine tanto ha rubato lui due o tre users capito ok quindi questo è un primo se vogliamo ostacolo che possiamo risolvere in modi diversi no? in entrambi i casi l'abbiamo risolto lavorando a livello di SQL abbiamo i versi sul grafo come dicevo secondo il mattino uno si sveglia pensando alle query in idate si sveglia pensando alle join oppure si sveglia pensando al DAO che lavora e fa tante query sono tutte soluzioni valide non pensate subito all'efficienza quale è più veloce quale è meno veloce eccetera pensate a quella che vi dà maggiori probabilità di successo in cui vi sentite più sicuri di andare avanti ok? questa è la metrica fondamentale durante l'esame nel tempo che ho sono sicuro di arrivare fino in fondo cercando di prendere la strada in cui mi sento più sicuro ok? e questo ci permette di risolvere ci permetterà quando andiamo a mettere sta roba dentro un DAO di risolvere praticamente il punto B il punto A eh già punto C dopo B viene C e invece è la creazione degli archi se e solo se due utenti diversi hanno pubblicato una recensione per uno stesso locale commerciale in un certo anno selezionato quindi immaginiamoci due utenti dell'elenco di questi 44 e ci chiediamo se questi due utenti hanno fatto entrambi una revisione per lo stesso locale quindi in questo caso cosa dobbiamo fare? dobbiamo fare una join della tabella revisioni con se stessa prendo due revisioni diverse queste revisioni diverse devono essere dello stesso locale dell'anno specificato e dell'utente 1 e dell'utente 2 tra gli utenti che ho seccionato non tra tutti gli utenti quindi per impostarla io creerei qualcosa che mette insieme due recensioni reviews from reviews r1 reviews r2 che siano dello stesso locale r1.businessid non mi interessa qual è il locale uguale r2.businessid e attenzione se faccio così mi esplode in mano questa cosa perché avrei centinaia di migliaia di righe quindi io qua tra i vari modi di creare gli archi del grafo escluderei quello che avevamo chiamato metodo 3 o metodo C il terzo quello in cui non acquiri faccio tutto cioè qui mi conviene fortemente filtrare per utente per coppia di utenti altrimenti dovrei rimettere le condizioni dell'utente che abbia il numero di recensioni per evitare che questa qui si porti dietro a tutti gli utenti noi abbiamo selezionato i 44 da un insieme di 40.000 quanti erano gli utenti quindi qua non voglio avere tutti i 40.000 voglio solo avere le recensioni di quegli utenti lì quindi conviene avere una selezione già su lo user id dell'uno uguale qualcosa e lo user id del 2 uguale a qualche cos'altro qui mi faccio il doppio loop sugli archi del grafo 44 saranno 44 al quadrato quiri ok con quanto fa con 1000 quiri me la cavo 1500 quanto viene allora devo prendere due valori potrebbe essere questo e questo che sono due utenti particolarmente noti particolarmente famosi li conosciamo tutti facciamo una cosa prendiamoli non ho scusate rimetto il count qui perché così lo vedo poi magari non faccio l'erroi di sintassi e ordino per numero così prendo due utenti che abbiano tante recensioni o maggior probabilità che questa qui mi dia qualcosa tanto li dovrò far girare tutti ma come esempio adesso prendiamo questi primi due che hanno tante recensioni e ne hanno 117 in comune ci saranno dei casi in cui chiaramente le recensioni comuni saranno zero quindi questi saranno i due utenti utente 1 utente 2 su cui dovrò iterare nella creazione dei grafi delle archi poi dovrò ancora filtrare sull'anno ricordate che il testo dice queste recensioni però devono essere di un certo anno allora dove ce l'ho l'anno l'anno nel database è nella colonna che si chiama review date che è un campo di tipo date a me interessa solamente l'anno quindi posso estrarre l'anno dalla colonna review date ma review date di quale di r1 o di r2 di entrambe perché a me non va bene se tu hai fatto una revisione nel 2003 e io l'ho fatta nel 2005 dello stesso locale no devono essere recensioni dello stesso locale fatte nello stesso anno e è l'anno che dico io ok quindi year di r1 punto review date sia uguale a e qua copiamo dall'esempio così prendiamo dei dati sensati 2007 e anche il suo amico r2 sia dello stesso anno bravo subito beccati allora fatemi vedere in che anno possono averlo fatto queste cose qui questi qui sono del 2010 magari boh questi hanno fatto tante revisioni ma vediamo 9 eh poi però capita ancora una cosa malata che guardate che queste quattro questo review id numero 1 è fatta da un utente e review id numero 2 è fatta da quest'altro utente ok quindi in realtà questa coppia di utenti questo quell'altro hanno quattro revisioni in comune nello stesso anno allora di tutta sta roba qua a me cosa interessa il numero di righe che è il peso dell'arco giusto? quindi io questa qui riha come parametri utente 1 utente 2 che avrò cura di impostare diversità di loro non ha senso controllare con se stesso e l'anno che vabbè lo devo ripetere due volte e di tutto questo mi serve il count cioè 4 chiamiamolo similarità mettiamo così nel testo che è il peso dell'arco a questo punto ho tutte le informazioni che mi servono per creare il grafo andiamo a prendere il progetto Java creiamo i modelli del DAO i metodi del DAO che facciano queste due query e poi creiamo il modello che richiami questi questi metodi e li usi per creare il grafo ok allora il progetto è qui vedete che finora io non ho ancora aperto il progetto c'era già un help DAO vediamo un po' se ha dei metodi che mi servono qui dentro non siete liberi di fare ciò che volete ieri qualcuno mi ha chiesto ma se c'è un metodo del DAO che possiamo modificarlo sì certo ovviamente noi vi diamo un progetto di partenza ma poi fateci ciò che volete quindi potete aggiungere togliere modificare quello che preferite allora get all businesses ad esempio è il tipico metodo che c'è ma non ci serve a niente get all reviews pure ecco get all users invece magari mi serve un pochino di più perché pensa di leggere tutti gli utenti noi in realtà non leggiamo tutti ma solamente quelli che hanno un certo numero di review quindi possiamo rubare copiare da questo metodo che già più o meno fa tutto soprattutto mi crea già l'utento user facendo tutti i get del caso non lo cancello perché cancellare mi crea sempre un senso di nausea get users with reviews int minimo numero di reviews no non voglio tutti gli utenti ma tutti quelli che abbiano un certo numero minimo di revisione e per ottenerli li prendo da una query che è una delle due ditemi quale preferite quelle che abbiamo fatto prima vogliamo mettere quella con la join vi piace più la join va bene poi chiede poi chiedo a Cagliaro cosa vi ha fatto con le query annidate per spaventarli così tanto qui facciamo qui facciamo lo solito editing idiotari sintassi e ovviamente al posto di 200 mettiamo il nostro parametro noi abbiamo la colonna numero che sappiamo che non ci serve poi vediamo se il resto ha senso prepare statement ovviamente prima di eseguire la query dovremo impostare questa volta abbiamo un parametro quindi statement.set int parametro 1 min reviews se al posto del punto interrogativo ci vado a mettere questo parametrino qua esegue la query dunque la srotola il cursore crea oggetti user raggiunge il risultato chiude la connessione fondamentale e restituisce il risultato ok se vogliamo prima di andare avanti prendiamo il nostro test DAO e potremmo fargli testare questo metodo creando una lista di user user come si chiama la classe non ti piace list scusami user diciamo gli utenti DAO punto get all users with review 200 così vediamo se sono loro quest'altro possiamo commentare ecco c'è qualcosa che non va ci sarà la access denied user password ho dimenticato di aggiungere di modificare la password infatti torniamo sui ok vabbè ci sono questi qua questi utenti qua sono giusti non sono giusti noi sappiamo che devono essere 44 no? o meno prima ci venivano 44 non c'è motivo per cui non siano di nuovo 44 ok quindi io nell'economia del mio tempo ho speso 30 secondi a testare il metodo che ho appena scritto prima di dover scoprire che ha un baco quando sarà già collegato al modello al controller non so più perché saltano fuori i dati sbagliati ok io quando programmo penso sempre di avere una corda al collo che ogni riga di codice che scrivo si stringe un pochino di più e quando faccio girare il programma si allenta testate frequentemente non scrivete tutto e poi dopo aspettate la fine quando poi i bachi diventano introvabili un pezzo per volta scusate il paternalismo ok poi c'è l'altra query che è quella invece per gli archi quindi questa me la devo fare da solo e mi tirerà fuori cosa mi tira fuori questa come risultato un intero semplicemente ha come parametro due user utente 1 utente 2 e come risultato un numero intero e suate anche l'anno come parametro quindi nel mio metodo del DAO è una query nuova non somiglia a nessuna di quelle che già ci sono e vabbè public int calcola calcola peso possiamo dire o calcola similarità tra che cosa calcola similarità tra due utenti user 1 user 2 nell'anno specificato questa esegue la query che abbiamo appena provato prima quindi la vado a prendere da qui e la incollo metto a posto gli spazi al posto dell'utente 1 ci metto il punto interrogativo attenzione il punto interrogativo non deve essere dentro gli apici deve essere al posto degli apici quindi buttiamo via anche gli apici stessi interrogativo spazio e idem per l'anno 2009 diventerà punto interrogativo e punto interrogativo quindi questa query ha tre parametri di cui gli ultimi due in realtà sono ripetuti e qui adesso comincio la solita trafila connection uguale dbconnect punto get connection poi prepariamo uno statement uguale con punto prepare statement di questa sequela ti mettiamo in un try catch così non piangi dal prepare statement fissiamo i parametri quindi st.set il primo parametro è uno user id quindi una stringa e questo è il parametro 1 la prendo la stringa dalla user 1 punto get user id il secondo parametro è anche lui una stringa quindi set string parametro 2 utente 2 punto get user id poi parametro 3 e parametro 4 sono entrambi l'anno quindi l'int che riceviamo quindi che è un numero intero set int 3 anno statement set int 4 anno fatto questo eseguo la query e il risultato della query essendo un account sarà fatto sempre esattamente da una sola riga quindi sarà mi posiziono sulla prima riga prima è unica riga e vado a estrarre il valore int similarità uguale result set punto get int get int con la I maiuscola della colonna che si chiama similarità faccio un po' pie in colla perché non mi fido di me stesso ottenuto questo chiudo la connessione e restituisco il valore connection punto close return similarità grazie a tutti se vogliamo possiamo spendere altri 30 secondi nel test DAO qui c'è un errore, sono rosso da qualche parte cos'hai? ah perché non c'è nessun return qua no, almeno uno che è più esplicito possiamo aggiungere anche qua una riga al DAO tanto per testare anche questo metodo int similarità uguale DAO punto calcola similarità vediamo se riuscire a replicare ciò che abbiamo qui no, perché non posso, non riceve la stringa riceve l'oggetto utente vabbè, non lo facciamo dovrei creare un oggetto utente che ha quell'id per poterglielo passare oppure andare a cercare nell'elenco degli utenti quello che ha questo id specifico per poter riprodurre questi dati lo vediamo interattivamente dai ok, il DAO dovrebbe, salvo errori dovrebbe essere completo possiamo fare un gradino in su e passare al model qui c'è già una classe model che ovviamente era già molto piena nella classe model andiamo a costruire il grafo quindi di fatto dobbiamo pensare al primo metodo del model che ci servirà che sarà appunto il model il metodo crea grafo public crea grafo che lavora a partire da dai due dati che sono il numero minimo di revisioni e l'anno e cosa restituisce? crea grafo, niente ma crea ovviamente l'oggetto grafo private graph graph è un grafo che avrà come vertici dei users ovviamente e come archi archi pesati non orientati default weighted edge qui bisogna importare la libreria graph default weighted edge coso screen weight dead edge anche questo bisogna importarlo grafo quindi la nostra crea grafo cosa farà? istanzia un nuovo oggetto grafo new allora questo grafo deve essere orientato scusate non orientato e pesato quindi un simple weighted graph new simple weighted graph classe default weighted edge punto classe punto e virgola non è orientato non è orientato è semplice non ha senso infatti semplice non c'è scritto nel testo ma c'era scritta una parolina che diceva due utenti diversi hanno lo stesso numero di recensione e quello mi fa già subito capire che il grafo è semplice perché non deve avere i cappi sui vertici fatto questo il lavoro passa al DAO nel senso che istanziamo un DAO YelpDAO uguale new YelpDAO lo uso per creare i vertici quindi magari mi salvo anche l'elenco dei vertici list user utenti mi dovesse servire ce l'ho ancora lì come list this punto utenti uguale DAO punto get users with reviews minimo numero di revisioni e questi sono i vertici del grafo grafo graf punto add all vertices al mio grafo di questi utenti io questo this punto utenti probabilmente non mi serve a niente l'ho messo lo stesso per due motivi no per un motivo solo debug se dovesse qualcosa non funzionare non fossi sicuro se il problema è col grafo o col DAO metto un breakpoint qui e riesco a vedere il risultato del DAO qual è e poi vedere se invece se è corretto ciò che sto passando al grafo oppure se l'ha già sbagliato prima così come la variabile dis.utenti quando un breakpoint la posso esaminare analizzare eccetera se invece volete risparmiare una riga di codice mettete direttamente la chiamata del DAO dentro l'advertices buona fortuna nel senso che magari va bene ma per debuggare poi diventa complicato quindi una riga di codice in più ci permette poi di andare avanti passo passo a vedere cosa succede e così abbiamo creato dicendo le dita che sia giusto i vertici gli archi abbiamo detto che li creiamo uno a uno andando a prendere le coppie di vertici perché altrimenti la query diventava troppo complicata vabbè lo sappiamo fare for user 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 uno in ah guarda dis.utenti ce l'ho già comodo for user u2 dis.utenti poi se non avessi dis.utenti ovviamente faccio grafo.vertexset assolutamente la stessa cosa no? in questa fase se gli utenti sono diversi quindi uno non è u2 vado a contare quante revisioni hanno in comune se il numero di revisioni in comune è maggiore di zero aggiungo l'arco quindi if innanzitutto u1 diverso da u2 1.not equals di u2 allora vado a contare la similarità chiedendo al dao di calcolare la similarità tra 1 2 e l'anno che è il parametro che ho ricevuto da sopra adesso lo uso se la similarità è maggiore di zero allora devo aggiungere l'arco pesato col peso pari alla similarità punto add edge io prendo il metodo di graphs punto add edge perché ha già i tre parametri il vertice di partenza dell'arrivo e peso altrimenti dovrei aggiungere l'arco e poi settare il peso dell'arco se usassi direttamente i metodi dell'oggetto grafo mentre in graphs c'è già questo primo parametro è il mio grafo secondo parametro il vertice di partenza secondo terzo parametro il vertice di arrivo terzo parametro il peso che sarà un double gli passo un int ma lui è contento lo stesso ovviamente grafo vertice di partenza vertice di arrivo peso e con questo dovrei aver creato correttamente non lo so ma dovrei aver creato il grafo qui mi faceva stampare un messaggio possiamo magari fare in modo che la crea grafo restituisca una stringa anziché un void e questa stringa sia il messaggio di creazione del grafo no? return grafo creato con tot vertici quindi i vertici sono this punto grafo punto vertex set punto size e tot vertici e un certo numero di archi this punto grafo punto edge set punto size archi barra n quindi la crea grafo si crea il grafo se lo salva e poi mi istituisce questo messaggino così ce lo già comodo nel controller se voglio stamparlo allora qua un test model ci sta tutto la classe test model con un suo main che vadano a verificare ciò che ho appena fatto chiedendo al messaggio di creare il grafo partendo dal numero minimo di review che è 200 e il numero di l'anno prendiamo pure quello dell'esempio che è il 2007 visto che qua i parametri li abbiamo comodi ci ha messo un po' perché chiaramente li abbiamo fatto fare 44 alla seconda query ha creato 44 vertici e 58 archi vediamo se quadrano i numeri con quello che c'è scritto sul testo quindi questa parte qua la potremmo volendo già agganciare direttamente al controller al bottone crea grafo in realtà ci sarebbe ancora una piccola ottimizzazione da fare perché noi stiamo creando ogni arco due volte nel modello perché vedete questo doppio ciclo a parte chiaramente escludendo U1 con se stesso ogni utente viene preso una volta con U1 copiato con U2 e poi successivamente nel ciclo viene presa la stessa copia al rovescio quindi vuol dire che metà delle volte le query le faccio tutte metà delle volte mi dà qualche cosa di nuovo e quindi questo addedge effettivamente aggiungerà un arco l'altra metà delle volte mi dà qualcosa che conosco già c'è lo stesso arco girato al contrario e la addedge se ne accorge ritornerà nullo e non aggiungerà nulla non aggiungerà alcun arco allora l'addedge non me ne frega niente ma la chiamata al DAO costa in termini di tempo quindi se riesco a buttare via metà delle chiamate al DAO ho dimezzato di netto il tempo di esecuzione e questo come lo posso fare potrei ad esempio di nuovo mi serve una disuguaglianza per poter distinguere le due coppie tra le due coppie ne scelgo una ad esempio andando a confrontare su uno dei campi sul campo chiave sul campo userID quindi se uno è diverso da due va bene e per come pura ottimizzazione che mi costa poco e mi dà 50% di guadagno vado a controllare se u1 punto get userID è minore quindi uso la compare2 u2 punto get userID minore di 0 cioè se la stringa 1 è minore della stringa 2 ovviamente uso il compare2 che mi dà un valore negativo nel caso in cui u1 sia minore di u2 ho aggiunto questa condizione per evitare di creare ogni grafo ogni arco due volte il risultato non cambia il tempo di esecuzione di mezz'arco ok se ce lo ricordiamo costa poco farlo nel caso in cui abbia senso ovviamente se il grafo fosse un grafo orientato invece no perché non è detto che l'arco che va e l'arco che torni abbiano lo stesso peso oppure esistano o non esistano a prescindere ok siamo a questo punto se vogliamo al momento in cui agganciamo possiamo agganciare questa creazione del grafo al controller andiamo a questo punto e torniamo a vedere il controller cosa fa allora chi ha creato questo modello è stato molto gentile perché mi ha già dato questo progetto base mi ha già dato gli event tender e soprattutto l'oggetto model andiamo a vedere il main che già crea il model fa già il set model non verifichiamo sempre se c'è o se non c'è già nel progetto base in questo caso c'era per semplicità quindi possiamo tuffarci a bomba dentro il metodo crea grafo tuffarci dopo però aver specificato quali sono i punti interrogativi generichi dell'interfaccia utente ad esempio anno per come è definita qui vedete che è una tendina in cui scelgo l'anno non è un valore che l'utente può inserire allora sarà una tendina con valori di tipo intero possiamo mettere intero finora abbiamo lavorato con interi se volessimo fare i fighetti potremmo mettere la classe year di java.time ma in questo caso non stiamo facendo dei veri calcoli con le date quindi non ci serve così come l'altra tendina che è quella dell'utente ovviamente avrà un oggetto user dentro user che va importato chiaramente dal model allora questo vuole anche dire che visto che questa è una combo box di interi va popolata e vabbè la popoliamo nell'initialize cosa mi dice il testo deve contenere gli anni dal 2007 al 2000 c'era scritto quindi andiamo a leggerlo dal 2005 al 2013 vedi che non ero azzeccato quindi for int anno uguale 2015 2005 punto e virgola anno minore uguale 2013 anno più più aggiungiamo la tendina l'anno specificato è una tendina che contiene degli integer quindi possiamo metterci benissimo dei numeri interi dentro la tendina è combo anno credo punto get items punto add anno gli items sono le voci da tendina che sono di tipo integer add riceve si aspetta un integer perché l'integra è la parametrizzazione che abbiamo usato per questa combo box a sto punto torniamo finalmente nella crea grafo la crea grafo quando viene premuto il bottone legge il numero minimo di review in realtà le prima legge come stringa review metto una s per ricordarmi che è una stringa letta dalla campo di testo che si chiamava txt x1 x2 n txtn punto get value get text scusate e poi provo a convertire questo in intero int min review è l'integra il parse int di questa stringa se va bene vuol dire che l'utente ha inserito un intero altrimenti non è inserito un intero e quindi faccio la cache in eccezione che è una number format exception dicendo all'utente ciccio devi mettermi un numero ok quindi nella text result set text devi inserire un numero valido 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 ok se non casco in questa eccezione posso andare a leggere l'anno combo box combo anno punto get value allora anche qua dovrei controllare che l'utente abbia inserito un anno correttamente sicuramente essendo una tendina non puoi scegliere un anno a caso diverso da questi ma potrebbe non scegliere nulla nel caso in cui non scegliessi nulla la get value mi da null può essere null perché questo è un oggetto di tipo integer se io lo metto dentro una variabile di tipo int convertendo in null mi da una null pointer exception allora per poterlo verificare in modo umano conviene salvarselo come oggetto e controllare se è null se l'anno fosse null allora non va bene ascolta qua devo mettere un po' in ritardo esci dal metodo anche qua farò la stessa cosa devi inserire un anno valido più che inserire selezionare ed esci altrimenti avrei potuto lasciare int e mettere qua un try catch su questa operazione della null pointer exception per andare a catturare un errore di conversione da integra a int qualora l'integra fosse null allora arrivo qui quando finalmente sono sicuro che il numero di review c'è è un numero correttamente passificabile e l'anno è stato selezionato quindi posso disturbare il modello per dire se invece tocca a te dimmi un po' come va se ti chiedo di creare il grafo con questo numero di review minime e con questo anno set text message a questo punto possiamo direi testare il programma fino a qua dovrebbe funzionare quindi dovrebbe partire appopolato l'anno con i numeri del 2005 e del 2013 mettiamoci i soliti valori su cui li abbiamo testato che sono 200 e io mi dimentico sempre o meglio non faccio nessun sforzo per ricordarmelo quindi lo vado a rivedere ogni volta 2007 crea grafo grafo creato dall'altra parte in eclipse non sono arrivati dei warning o dell'exception proviamo con l'altro esempio 150 2008 crea grafo e lui mi dice quando avrà finito 82 494 che sono i numeri che coincidono con quelli dell'esempio quindi fin qua ci rassicura 150 2008 82 vertici 494 archi che è proprio quello che c'è scritto nel pdf per chiudere il punto 1 per chiudere il punto 1 dobbiamo ancora riempire questa tendina con gli utenti e implementare la funzione utente simile allora riempire la tendina con gli utenti è facile nel senso che gli utenti li abbiamo già basta chiedergli al modello nel momento in cui ho creato il grafo gli chiedo al modello senti già che hai creato il grafo dimmi anche chi sono gli utenti così li mettono nella tendina e queste sono due due righe perché bisogna dire al modello implementare nel modello un metodo public lista di user get users in cui ritorno semplicemente this punto utenti un getter banale banale che il controller può usare può usare quando? quando è sicuro che la lista di utenti sia valida cioè subito dopo aver creato chiamato la crea grafo allora salviamo il modello torniamo nel controller qui qua ho fatto la crea grafo stampo il messaggio e riempio la tendina con gli utenti quindi la combo box combo utente cancello ciò che eventualmente ci potesse essere prima perché se l'utente clicca su crea grafo più volte ogni volta devo ricalcolare da zero questi utenti quindi nel modello se notate ho fatto attenzione dove è andato? a riscrivere da zero questa lista utenti non ho fatto degli ad l'ho rimpiazzata con una lista nuova e anche il grafo ho ricreato un grafo nuovo così ogni volta che clicca su crea grafo queste due variabili vengono ripulite buttate via ricostruite e non c'è il rischio che nella seconda iterazione nel secondo tentativo mi porti dietro dei dati sporchi dal tentativo precedente ok? la stessa cosa devo fare nel controller quindi prima di tutto carissima cancella i dati getItems.clear e poi adesso metti i dati che ti dico io cmb utente getItems addAll model.getUsers cartandina popolati con i dati che arrivano dal modello se dimenticassi clear i nuovi utenti si aggiungerebbero a quelli della volta precedente però non sarebbero più validi perché già non corrisponderebbero più agli stessi vertici del grafo allora vediamo se funziona 200 2007 questa è vuota 2007 no? sì questa è vuota crea grafo pensa 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 e la tendina adesso dovrebbe contenere in un ordine a caso ai noi l'elenco di 44 utenti il testo non mi dice di mettere ordinati in nessun modo non mi fa vedere come devo essere presentati quindi può applicarsi il teorema del chi se frega va bene così oppure se per comodità nostra gli vogliessimo fare un sort per avere ordinati per nome se dovessimo andare a cercare perché noi poi dovremmo cercare Alexander che chissà dov'è qua in mezzo no? è qua utente simile cosa fa utente simile? andiamo a rileggere perché nel frattempo ci siamo dimenticati cosa chiedeva il testo abbiamo creato il grafo abbiamo dato dei pesi agli archi che non abbiamo ancora guardato questi pesi potrebbero essere completamente sballati speriamo di no ma non li abbiamo ancora verificati abbiamo solamente contato quanti archi ci sono il numero ci sembra giusto i pesi speriamo siano giusti permettere all'utente il punto D di selezionare della portatendina un utente U tra quelli presenti nel grafo fatto, grazie alla pressione del bottone utente simile stampare se esiste l'utente collegato più simile ad U oppure tutti ragioniamo nel caso generale tutti gli utenti collegati a U con l'ingraorio di similità maggiore cioè devo prendermi dato U tutti gli adiacenti i pesi degli archi e vedere qual è il peso maggiore e restituire la lista di tutti gli adiacenti che abbiano quel peso lì cioè nel mio tutto lavoro per il model questo nuovamente quindi nel model avremo due utenti simili abbiamo già hanno scusato questo controller nel model avrò un metodo public che mi calcola gli utenti più simili utenti più simili a chi ha un certo utente e cosa mi istituisce? mi istituisce una lista di costoro questo lavora sul grafo semplicemente a tutte le importazioni che ci saranno già codificate nel grafo quindi ad esempio possiamo prenderci tutti gli utenti vicini allora non è che dobbiamo calcolare calcolare il peso massimo dell'arco degli archi adiacenti e poi una volta che ho trovato il peso massimo devo fare due volte un ciclo sugli archi la prima volta per calcolare il massimo la seconda volta per trovare tutti quelli che coincidono col massimo quindi potrei impostare prima di tutto il calcolo del massimo int max uguale 0 0 sicuramente il numero minore perché gli archi compito 0 non li inseriamo proprio e possiamo ciclare sugli edge adiacenti a u dis.grafo edges of vertice u non andate a scorrere l'edge stretto di tutto il grafo c'è il metodo che mi dà già gli archi edges of collegati a u e due punti tutti gli archi che sono incidenti su prendo il peso e lo confronto col max quindi se il peso di un arco lo trovo da grafo get edge weight di e se questo peso fosse il maggiore di max allora max uguale a lui che è un double lo devo portare int perché ci ho messo solo dentro degli int ma lui internamente è un double in questo caso ho trovato il peso massimo tra gli archi esistenti fatto questo devo trovare quali sono i vertici corrispondenti a tali archi solo questi archi qua quindi rifacciamo una secondo ciclo in cui però vado a riempire una lista con l'elenco dei vertici che trovo dall'altra parte quindi la lista di user che è il mio risultato sarà una new array list di utenti in cui vado ad aggiungere i vertici che ho trovato quindi vado a rifare esattamente lo stesso ciclo di prima dove però vado a controllare solamente gli archi il cui peso è uguale al max magari si mette un int davanti per rendere più chiaro che confronto tra interi quelli che sono uguali al massimo questi sono gli archi prendo il vertice collegato quindi quest'arco a peso 5 che è il massimo mi serve il vertice uno dei due vertici collegati all'arco ovviamente quello dei due che non è u stesso allora per far questo mi serve user diciamo u2 l'altro il modo più comodo per ottenerlo è usare il metodo di graphs get opposite vertex che dato un grafo dato un arco mi dice qual è il vertice che si trova dall'altra parte in realtà quell'altro vertice è o il get source get edge source di e oppure get edge target di e uno i due u e l'altro è diverso da u però posso contarmelo io oppure posso farmelo fare il secondo parametro questo è un edge il terzo parametro è il vertice u rispetto al quale stiamo cercando l'opposto e questo u2 lo aggiungiamo alla lista e quindi possiamo restituire questa lista al controller controller il quale a questo punto può semplicemente prendere non abbiamo tempo di fare anche il controllo dell'errore ma l'utente u lo prende dal combo get value la lista di utenti vicini la può prendere dal model utenti più simili a u e la può mostrare set text vicini vabbè tu string poverino dai utenti più simili cos'ha che non gli piace user u hanno salvato modello giusto ok vediamo se funziona negli ultimi 10 secondi che abbiamo 200 2007 Alexander avevamo detto che ci interessava utente simile mi stampa un po' di roba molto brutta stevie e christine e jake che stevie christine e jake e anche alicia vediamo se c'è anche alicia tra i miei si c'è ok quindi ha trovato loro 4 in realtà si il testo mi dice anche il grado e io mi sono dimenticato di salvarlo quindi bisogna ancora aggiungere un metodino nel modello che mi restituisca al valore max che ovviamente sarà uguale per tutti quindi non è neanche tanto senso scrivere a fianco di ciascuno basterebbe scrivere una volta sola però questa è una questione diciamo così di estetica di aggiungere un dato ma il calcolo era questo ok allora interrompiamo questo faccio il commit mercoledì prossimo riprendiamo da qua aggiungendo un pochino di gestione dell'errore di estetica a questo secondo metodo e poi facendo tutto secondo il punto 2 che è quello della simulazione se nel frattempo avete dubbi ci sentiamo per chiarirci sia su Telegram e per chi deve ancora farla buona esercitazione oggi pomeriggio non preoccupatevi perché la prima mezz'ora tra quarti d'ora sarà un po' macchinosa con i token con i clip e tutte queste cose ma poi visto ieri dopo i primi tre quarti d'ora tutti filavano abbastanza lisci buona giornata grazie grazie a tutti grazie a tutti